buongiorno da WTV News oggi 22 ottobre San Giovanni Paolo II ed è la giornata mondiale della suocera che cade sempre la quarta domenica di ottobre la giornata onora tutte le suocere le donne speciali le madri dei nostri mariti e dei nostri partner l'iniziativa è nata nel 1935 ad Amarillo in Texas